Quando siamo davanti a Octane dici base aerea Quando siamo a base aerea, Octane C'è un predator a base Ma non ne so niente, non ne so niente Ah abbiamo un team No non è vero, l'hai detto prima che si intubasse Cioè ce l'hai da te, mi sa eh Ma io me ne vado, che ti pare che rimango qua? Se l'hai preso lui? No l'ho preso io Ho preso io lo zaino Ho un R E un radius Io ho una R R e radius E una mozza No ho lasciato la mozza, tieni 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 Eh Eh lui, ma che sta a girare se ho iniziato ai 6-10 Eh, eh beh Sì certo Ti ho detto che non funzionava Eh un attimo, fammi finire questa Non è scena Sì Craccato Madonna Dove più 66 in testa Aia 62 rosso Vai dai, one, one Aspetta non lo uccidere il numero Devo fare l'esecuzione Inseguilo solo Niente Era camperato Era camperato Doveva Vabbè È bello il radius Vuoi sapere che arma avevano questi Che arma aveva? Questa aveva Prowler Selettore Caricatore Viola Madonna Però non aveva pesanti Cioè Mo c'è notte Il po' 20 Qui c'è un caricatore Leggero Livello 2 Hai pesanti tu? Potrebbe farmi il camodo Sì Qui c'è un'artica Distanza ravvicinata Dove è morto lo schifo? Eh Sotto la scala Ecco perché ho detto Dovevo Era camperato Ovviamente mi faceva Eh non lo so Non ho visto Questa scala Sì Non c'è qua No no Aspetta Aspetta Non lì È la scala per salire in questo Potrebbe esserci qualcosa di buona Da questa parte Ah Hai shell Vabbè sai che devi fare Sapevi che Diante da me Mi otterrano in faccia One shot uno Ok se scende È morto La fretta è one Madonna Coprimi La fretta l'avevo distrutta Eh vabbè Eh vabbè Eh qua il pazzo è sopra È certo Sono troppo forte ragazzi Non potete competere Basta Eh raga non potete fare niente Basta Date via l'ipica Voglio capire chi era la rete Campione Campione No aspetta Non è sicuro che è il campione Ah sì il campione Il nuovo leader uccisioni Cioè gli ho fatto tipo un 160 Ed era full blue Chi era starry? Aveva dei movimenti disumani Intanto è un livello 300 Va bene Bah 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 Non ho calci Dieci secondi L'anello è a Io non ho celle Ne batti Sto riparando i miei danni Hai pesanti? No Oh madonna 0 shell e 0 basso Tengo gli occhi aperti però 0 shell e 0 basso Madonna mia Che vuoi? Bene Te l'ho lasciate Alla sandè Io non so se lasciarmi la mozza Ha i siring e medikit però Ho la mozza full La lascio o la prende? Io la lascerei Ma era full Sto in un top qua Che arrivo Non c'è nessuno Guardate i percorsi sulla mappa Arrivo No è free Ma dai ma lì Ma lì forse era tutto frilunto Sì era tutto frilunto Eh vabbè Ma andiamo a fedà Gli ho sentiti tipo a mercato Penso Dai ci sarà gente a mercato A mercato Pure qua hanno loot Potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte Allora mercato è lo usato Porco giuda Ok Mascheri ho trovato una cosa Ma non Non te lo dico Che ho trovato Io ho zero calci Oh pesanti quelle sono Sì La cosa che ho trovato si chiama Caricatore Esteso Per cecchino Piola Che fortuna C'è un caricatore Esteso per cecchino Qui Vabbè Che mi frega Quindi ti ribelli E la tua natura Dice Dio Dio Portaci delle persone Mi chiamavano l'uomo Che parlava con dio Tutto mio Ma più che altro scudi Cioè Te li ho pure dati un po' dei miei Ma ci sono altri No Qui è scritto Ma dove stanno Non ne ho idea Devo sentire sparare No Guarda sta cassa Abbiamo un po' di uccisioni Vabbè Che triste Vabbè Tu immaginati Ti non aspetui Immaginati Gente che atterra lì Come primo land Apri quella cassa E trova quelle munizioni Non ci faresti caso Perché spammi quadrato Cioè Perché c'è gente Ma Calcio Qui c'è un calcio Livello 2 No Livello 3 No Livello 2 Eh sapevo Che se ti dava una battery Poi la ritrovavi Era ovvio Era scriptato Qui c'è una cella Sì c'è una cella Ci sono altre cella Oh Sì c'è una battery Sì c'è una battery Triangola il zinghiozzo No Il zinghiozzo Qui c'è uno zaino Livello 3 Non mi serve Meno male Perché sennò Dovevo farmela a corsa Ma c'è gente Ma c'è gente Numerosa Madonna Mi sto arrabbiando Veramente Volevo fare un po' di kill Niente Ma scopriamolo subito Aspetta 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 Ma c'è però un errore Non lo so Uno scudo corporeo Divene qui Non ti dice Sì ma qui c'è stata gente C'è una zip Che non è del gioco Arriva Ma in che senso Ma si fightano la sopra Ti fightano la sopra Io ci vado subito Mi devo fare un medit Wait Ma scusa Due siringhe e tiri No c'è gente da me C'è gente da me C'è gente da me Qua sono fermi Sono fermi Sono fermi Ma Carica scudi E' un corso Dentro casa E' un norte E' blu No è fuori No questo c'è al aimbot Non è possibile Crackato Eh fatto 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 No frati giuro Era Non riuscivo Madonna L'ho distrutto Aveva battere Lasciamele Lasciamele Con l'R99 L'ho distrutto Non hai capito L'ho distrutto Cioè io ho fatto 47 Con l'Akstar E poi R99 Ma Da questa distanza Guarda guarda Da qua Da qua Eh ma infatti Non era male sto qua Ho visto Ho visto i badge Ma non io No sto dicendo Questo qua Non mi messava con un colpo Mi facevo la batter Mi raffacciavo Mi rifaceva L'anello non è troppo lontano Io ho salvato la station Perché ti stava Pusciando Ma se non mi facevo le siringa Era morto Perché una certa stava immobile Io non mi guardavo Stavo a pushandino Meno di 30 secondi L'anello è vicino Caduta Caduta 10 secondi 666 Dead full Grande Pioggia di fuoco Cosa Cioè quando è morto L'ho ucciso con la pioggia di fuoco Mi sa che si è buttato E mentre si è buttato Ha tirato la pioggia di fuoco Tipo uno che si butta Un pazzo Un pazzo Era convinto di aver loba Secondo me Ma poi dove Perché non l'ho sentito Attenzione Capsula assistenza in arrivo Capsula assistenza in arrivo Lì è lootato Potrebbe starci qualcuno Ma infatti Ma dov'è che è caduto Ah base aerea Esploriamo da questa parte Eh vero può essere Un posto vicino alla safe Cioè alla C'è una cassa viola C'è una cassa della morte Scusa ma non ci siamo già passati Di qua Ah ma Qui c'è un'autica Medioraggio Non siamo tutti nell'anello Controllate le mappe I armor viola Performing Meno male Una volta che serve L'armor viola Ci danno l'armor viola Oh 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 Tento a sparire Ma dove Però tirare Cioè sparano Un colpo soltanto Preparate a usare il fade bug Questi ci piccano Dall'high ground Ci squagliano C'è uno smarf Livello 6 Qua Caccato qua Chi Caccato l'altro Sto ricaricando Ma sono scesi entrambi Sto ricaricando Ho fatto uno Uno è sceso L'altro c'è Mi devo fare la battery Grazie per avermi formato L'Aevo Sì Sì Entra Hanno fatto portal Zip È un pass È viola Fra un arcon selettore Fra occhio Ho mistato tutto Tutto Ho mistato tutto Vieni da me Vieni da me L'altro l'ho quasi Graccato È viola Corri Li freghiamo Vieni ho messo la zip Fra Vai 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 Dov'è che Un altro team Un altro team Fuori gioco Sono da te Sono da te Sono da te Non sei Ma fatti due Di due team diversi Di due team diversi Fammi la sua fare Fra non mi deve restare l'altro Me l'ha restato È mio Ma io non so nemmeno dov'era L'Ava È mio È mio È mio Quello è mio Quello è tu È mio Vabbè Se ne sta E Vico ha battuto Ricarica scudi In corso Dai No Dichiamalo Cravolo Vabbè Non 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 Cioè Si era pure girato Lo stavo rincorrendo Gli ho dato un pugno in faccia E era già morto Peccato Peccato sì